La mancata riscossione dei canoni d'affitto ha prodotto un ammanco da 133 milioni di euro nelle casse del comune di Napoli. A sottolinearlo è la procura della Corte dei Conti della Campania nell'invito a dedurre notificato dai carabinieri ieri alla preside di una scuola partenopea e ad altri sei indagati tra funzionari del comune e della società in house Napoli Servizi in relazione a un danno erariale da 92.349 euro. Per gli inquirenti i funzionari comunali sono colpevoli di non aver mai contestato i ritardi clamorosi della Napoli Servizi in sede di riscossione consentendo l'accumulo nel tempo di un'ingente stratosferica morosità. Dal settembre 1988 l'alloggio del custode defunto della scuola era occupato abusivamente dai suoi eredi che non pagavano l'affitto e neppure i consumi idrici al comune di Napoli. Sette in tutto gli inviti a dedurre tra cui quello alla preside della scuola dell'infanzia e primaria Luigi Van Vitelli Plesso Caccavello che si trova nel quartiere Vomero. Secondo quanto emerso dalle indagini anche in altre scuole napoletane è stata riscontrata la stessa occupazione abusiva degli alloggi dei custodi. In uno di questi è emerso per esempio che vive una persona il cui fratello venne arrestato nel 2005 perché sorpreso a coltivare marijuana proprio nel cortile dell'istituto. Ma ascoltiamo il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania Antonio Giuseppone. La procura campania della Corte dei Conti ha fatto notificare tramite l'arma dei carabinieri un invito a dedurre a dei presunti responsabili di un danno erariale connesso ad una cattiva gestione di un bene pubblico. Abbiamo accertato nel caso specifico che un immobile situato all'interno di un edificio scolastico risultava occupato abusivamente da tanti anni senza peraltro il pagamento di nessun tipo di canone. Quindi è uno spaccato di una gestione del bene pubblico assolutamente insoddisfacente per l'erario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.